Sì, eccoci in corso la manche di Slalom per il rotto della cuffia, l'austriaco Marcel Hirscher si è qualificato come trentesimo e dunque partito primo in questa manche di Slalom, scalerà in molto la classifica, il campione austriaco che guida la classifica parziale 2.36.10 il tempo totale, 30 centesimi di vantaggio sull'americano Ted Ligeti che è il campione del mondo uscente proprio di super combinata, al terzo posto il francese Pinturot, tre dei grandi favoriti a 41 centesimi da Hirscher, poi in quarta posizione il corato Ivica, Kostelic a 1.05, tra poco scenderà il primo azzurro Matteo Marsaglia seguito da Dominic Paris. Attenzione solo per dire che Icardi ha segnato il terzo gol per l'Inter, 42esimo, Inter 3, Palermo 0, Icardi. D'accordo Bisanti, stavamo parlando degli italiani che scenderanno in questa manche di Slalom, il primo a scendere Matteo Marsaglia subito dopo di lui, con il quattordicesimo tempo nella prova di discesa ci sarà Dominic Paris e poi scenderà Christophe Neroffer, il migliore nella discesa è stato il norvegese Janslund che però non è certo a suo agio tra i pali stretti. Poco fa è sceso il primo azzurro di questa manche, Matteo Marsaglia è scivolato via su questa neve davvero farinosa perché le temperature sono molto alte, è scivolato via Marsaglia che naturalmente non offre il meglio di sé per quanto riguarda lo Slalom speciale. In pista adesso c'è anche Dominic Paris che difende un secondo e 42 centesimi di vantaggio sull'austriaco Marcel Hirscher, ha già perso praticamente un secondo e 59 centesimi il vantaggio di Paris che naturalmente perderà moltissimo nello speciale rispetto al campione austriaco che è tirato a tutta. 9 centesimi adesso il distacco di Dominic Paris a metà percorso di questa manche di Slalom, l'azzurro si avvia verso le ultime porte, l'ultima parte di questa pista, una pista che bisogna affrontare a tutta perché non offre grandi spazi per quanto riguarda lo scorrimento. Ecco che Dominic taglia il traguardo, sesto posto per Paris a 1.03 da Hirscher, c'è Christophe Nerofer che sta scendendo nella manche di Slalom, Argento in supercombinata l'anno scorso alle Olimpiadi a Sochi, Bronzo in supercombinata nel 2011 mondiale a Gambisch, un secondo però è 11 centesimi il distacco dall'austriaco Marcel Hirscher che guida la classifica parziale, ecco che taglia il traguardo Christophe Nerofer soltanto tredicesimo a 2.20 nel computo totale dei tempi da Hirscher, settimo posto invece per Dominic Paris che tutto sommato ha disputato una manche discreta di Slalom, ha preso soltanto 2 secondi e 45 da un campione come Hirscher in Slalom, insomma per Paris è un buon risultato, la classifica parziale Hirscher davanti a Ligeti, staccato di 30 centesimi l'americano, poi il francese Pinturot a 41 centesimi, devono scendere ancora 7 atleti, il miglior tempo come detto nella manche di discesa è quello del norvegese Jansrud che difende 3 secondi su Marcel Hirscher, diciamo se Jansrud facesse una manche come Paris sarebbe medagliatore di questa supercombinata tella linea. È finito questa supercombinata maschile e ci dice tutto adesso Emilio Mancuso. Sì, proprio così il mondiale in Colorado si sta trasformando nel mondiale austriaco, medaglia d'oro per Marcel Hirscher che ha scalato la classifica dalla trentesima posizione della discesa, è balzato in testa nella classifica nel computo dei tempi e dunque medaglia d'oro per Marcel Hirscher, terza medaglia d'oro in un mondiale per il campione austriaco che ha vinto le ultime tre edizioni della Coppa del Mondo, 2.36.10 il tempo totale, soltanto 19 centesimi di vantaggio sul norvegese Jansrud, medaglia d'argento Jansrud che però ha beccato 3.35 nello slalom. In terza posizione medaglia di bronzo per l'americano Ted Ligeti staccato da Hirscher di appena 30 centesimi, Ted Ligeti che era il campione del mondo uscente di supercombinata. Gli azzurri decima posizione per Dominic Paris a 1.03 dall'austriaco, diciottesimo Christophe Nerofer a 2.20, fuori invece fuori gara Matteo Marsaglia ancora a secco di medaglie, purtroppo la squadra azzurra con il disastroso mondiale del team di velocità, una delle squadre più attese.